un percorso che permette a tutti i collaboratori di venire al lavoro e di sentire che il lavoro è il loro lavoro non un lavoro e questo cambia e aumenta cosa quello che ci serve moltissimo in questo periodo l'engagement il coinvolgimento il belonging quindi il senso di appartenenza innanzitutto gli elementi sono radicati sulla scienza e questa scienza è una scienza molto pratica perché è una scienza che è stata formata dove i dati vengono raccolti in azienda ci sono degli strumenti che si chiamano interventions che funzionano in azienda di cosa si tratta fondamentalmente andiamo ad intervenire sugli aspetti più critici che possono risolvere dei problemi in azienda per esempio la retention quindi ritenere i talenti come poterlo fare noi sappiamo dopo decine e decine di studi che questo può avvenire attraverso una mappatura chiara dei bisogni questa mappatura viene fatta effettuata in modo tale da capire quali sono i tre bisogni più importanti di ogni collaboratore l'azienda e della loro percentuale di soddisfazione poi andiamo a lavorare per esempio per scolpire il lavoro di ognuno dei collaboratori esattamente su misura come un vestito da mettere su misura per quanto riguarda i propri compiti i loro rapporti relazionali e addirittura scolpirlo proprio sui loro valori e concetti di come interpretano l'esperienza del lavoro